Mi chiamo Laura Gasbarrone, sono la titolare della sartoria Laura Lab che si trova a Ragusa in via Massabielle 24 incontrata Cisternazzi. Mi occupo di riparazioni sartoriali, creazione di abiti per donne e bambino, cucito creativo e ricami personalizzati. Tra l'altro anche mi dà soddisfazione accompagnare la cliente nella scelta sia degli articoli di cucito creativo che nella scelta dell'abbigliamento che magari vengono per far sì che io lo realizzi. Perché i sogni delle mie clienti sono i miei sogni. Amici e amiche, anzi amiche e amici sennò questa rabbia non sai com'è tutto il politico al coro. Allora amiche e amici, vi voglio presentare una signora dalle mani d'oro. È lei Laura che è la direttrice, la capa, la titolare dell'Aura Lab, questo laboratorio che è appunto meraviglioso dove lei crea delle cose meravigliose e mi ha regalato, Lauretta, questa pochette tipica, vedete proprio quella fatta con i decori siciliani. È meravigliosa perché sa che io sto sempre in giro, quindi Laura, grazie. Ma la vera sorpresa, adesso ve la devo vedere perché io sono impazzita, eccola qua. Ragazzi questa è geniale e non solo geniale ma a Roma si dice casca a cecio perché ne avevo proprio bisogno. Allora questo è un porta cialde, avete presente le cialde delle macchinette tipo l'anespresso, del caffè? Ecco io non so mai dove metterle, non vi piace avere quegli scatoloni in mezzo? Ragazzi guardate Laura senza sapere tutto questo mio portaccio, mi ha regalato questa cosa meravigliosa che è un porta cialde, poi me lo ha riempito di cose deliziose siciliane e di questo ti ringrazieranno soprattutto i miei figli e il mio marito perché lo so già. Insomma che dire, questa signora ha le mani d'oro, fa delle cose meravigliose, vestiti, abiti, dillo tu, lauretta, dillo tu. Sì vabbè già sanno un po' tutto quanto quello che creo, cucito creativo, riparazioni, sartoria su misura e quindi insomma venite a visitarci, a vedere le creazioni. C'è un sito dove ti trovano? No, su Facebook, Laura Lab Sartoria. Mi raccomando venite a vedere che cosa fa questa meravigliosa signora, vi posso un bacio per ringraziare? Grazie Laura, buon Natale a tutti! Grazie a tutti!